Giovanni Paolo II è stato il primo papa a scrivere un testo dedicato alle donne, Mulieris Dignitatem, una lettera apostolica in cui parla del genio femminile. Era il 1988. Oggi, trent'anni dopo, qual è il ruolo delle donne nella Chiesa? E che cos'è esattamente il genio femminile? Il cristianesimo nasce come una religione che non fa differenza tra uomo e donna, però questo carattere rivoluzionario del cristianesimo negli adattamenti culturali nei secoli un po' si è perso. Il mondo ecclesiastico preferisce imboccare la strada del genio femminile, delle virtù femminili, di quanto sono belle e brave le donne. Noi siamo davanti ad una rivoluzione scientifica, una rivoluzione antropologica. Quanto ancora deve essere detto e scritto circa il debito enorme dell'uomo verso la donna? Occorre una inversione di tendenza. Oggi è una festa per noi, perché è il nostro primo anno di vita come donne vaticano. C'è un'esercito grande merito di aver accettato la presenza delle donne al concilio Vaticano II. Non potevano parlare, ma la loro presenza è già stata importante. Il concilio è stato quel grandissimo dono che è stato, ma non ci possiamo fermare al concilio. Nella Chiesa niente è fisso. Non si condivide l'esigenza di parlare di un genio femminile senza mai fare riferimento ad un genio maschile. Non credo che questo vuol dire metterla da parte, tu devi tenere un determinato ruolo nella società o nella famiglia. Io che ho l'occasione di parlare spesso con delle suore, con donne cattoliche, così tutte quando si domina il genio femminile vengono prese da un momento, diciamo così, di nervosismo. Penne tenute in mano da uomini, omelie fatte da uomini, teologie pensate e scritte da uomini. Penne tenute in mano da uomini, teologie pensate e scritte da uomini.